Ciao ragazzi e ragazzi, eccoci finalmente arrivati con un nuovissimo video. Oggi interrompiamo la nostra programmazione dei vlog, perché dovevo fare questo Spilling the Tea with me, Cristiano Cervigni, edizione Britney Spears. Voi sapete che da quando abbiamo scoperto della sua conservatorship abbiamo preso a cuore la sua storia e quindi ve l'ho raccontata passo per passo. Tutti i video precedenti, se ve li siete persi e ve le volete andare a vedere, qua sotto in info box c'è proprio la playlist dedicata a Britney. Ma oggi perché dobbiamo riparlare di lei? Perché in queste ore è scoppiato un nuovo putiferio, è scoppiata una nuova polemica, poiché abbiamo scoperto che Britney Spears e Sam Asghari, suo marito, divorzeranno. E' finita? Finalmente posso dire, e vi dirò poi il perché affermo queste cose, la loro storia d'amore. E oggi, ragazzi e ragazzi, siccome io so che voi, come me, inizialmente non ci avete capito nulla, io ho fatto tutto uno studio di settore, guardate quante cose bisogna dire, ho studiato tantissimo su varie fonti e vari articoli e quindi vi andrò a raccontare passo per passo tutto quello che è successo, tutto quello che è uscito, tutto quello che sappiamo, fino a questo momento che sto registrando. Ovviamente voi sapete che ogni volta che io pubblico uno Spilling the Tea, appena sono le 13, appena viene pubblicato, saranno uscite nuove novità e quindi, ragazzi e ragazzi, lasciate like a questo video perché sicuramente ci sarà una parte 2 e one like, one pretty perché così lo posso registrare subito vedendo il vostro entusiasmo. Vi conviene mettervi seduti comodi, prendere il vostro snack, la vostra bevanda preferita e state allerta perché odierete Sam Asghari come io l'ho sempre odiato. Io per l'occasione ho preso la Red Bull Apricot, gusto albicocca e fragola, mai presa prima, mai assaggiata prima, speriamo un faccia schifo, momento ASMR, 3, 2, 1, chissà di cosa sa, albicocca e fragola, c'è scritto, cannuccetta, sorso iniziale. Buona! Passiamo iniziare dal punto numero 1. Britney Spears, voi sapete che per ben 14 anni è stata dentro questa conservatorship comandata dal padre ma grazie al movimento Free Britney di noi fan abbiamo scoperto tutto e lei poi si è finalmente liberata. L'anno dopo, cioè l'anno scorso, Britney si è potuta finalmente sposare con il suo fidanzato, diventato storico, diciamo così, Sam Asghari, ok? In quel matrimonio di cui abbiamo anche parlato anche ultimamente perché c'era qualcosa che non andava in quelle nozze, molte teorie del complotto, probabilmente molti avevano pensato che fosse un matrimonio fake, molti avevano pensato che invece del padre adesso era Sam Asghari ad avere il controllo su Britney. Insomma, la figura di Sam nella vita di Britney, in my opinion, non è mai stata una figura, diciamo, un po' carina, ma contornata dal red flag. Anche perché io vi ricordo che Sam ha conosciuto Britney mentre lei era nella conservatorship e nella conservatorship lei poteva conoscere persone solo se il padre dava il consenso. Quindi se addirittura lei si è potuta finanzare con Sam Asghari, significava che il padre aveva di buon occhio e aveva provato questo ragazzo, che vi ricordo era, ed è, un personal trainer, quindi io penso che sia stato uno dei personal trainer di Britney, quindi si siano conosciuti così. Se il padre, alla fin fine, ha accettato il loro fidanzamento perché loro si sono fidanzati durante la conservatorship, significa che è tanto buono un'era sto Sam, ok? Però vabbè, tutti mi avete detto, no, ma cosa dici? Lui è l'unica cosa che la rende ancora, tra virgolette, non fuori di testa, perché l'aiuta, perché la sostiene, tutto quanto. Avevo ragione, avevo ragione. Fatto sta, ragazzi e ragazzi, l'anno scorso loro a giugno si sono sposati. Invitati, c'era Madonna, c'era Selena Gomez, c'era Paris Hilton, c'era tanta gente, ma erano persone che Britney non aveva invitato personalmente, anzi possiamo dire che questo matrimonio è stata una specie di sorpresa organizzata appunto da Sam, e questo, vabbè, i complottisti ci hanno dato dentro, tra cui anche io. Tutto bello, tutto rose e fiori, lei libera, lei sposata, in giro per gli Stati Uniti e per il mondo, forse, con il suo marito, fatto sta che in queste ore abbiamo scoperto che Sam Asghari ha chiesto il divorzio. E lo avrebbe fatto precisamente il 16 agosto, quindi, quando era? L'altro ieri? E la causa di questa richiesta di divorzio sarebbe per differenze inconciliabili. Allora, te ne accorgi una. Vale, e comunque sappiamo che i due sarebbero in realtà già separati dal 28 luglio e che lui non viva più con lei e non si siano più visti. Cosa è successo però, raghi? Uno potrebbe dire, vabbè, ma lui c'è stato così, la sposata, per poi chiedere il divorzio per prendere tutti i soldi di Britney, come fece il suo ex marito Kevin Federline. Ma in realtà no, perché questa volta Britney aveva un accordo prematrimoniale di ferro. In quanto ho letto... Allora, ci sono due versioni su questo accordo prematrimoniale. Io ve le dico tutti e due. Però non dovete stare a guardar commenti, dovete guardarmi e dovete ascoltarmi. Perché se no non capite nulla. Siamo solo all'inizio, raga. Questo sarà un video lungo e tempestoso. Il primo accordo che io ho trovato mi sembra quello un po' più verosimile. E praticamente dice che Sam non potrà e non poteva e non può avere i soldi che lei aveva guadagnato prima della conservatorship. Quindi tutti quelli che aveva fatto, che tanto gli aveva già rubato il padre. E invece poteva, in caso poi di divorzio o separazione, ricevere un milione di dollari ogni due anni di matrimonio. Con un limite massimo di 10 milioni. Il fatto è che loro sono stati sposati per poco più di un anno. Un anno e un mese su per giù. Quindi a Sam, con il divorzio, andrebbero di diritto 500 mila dollari. Ok? Il primo accordo prematrimoniale che ho trovato, e mi sembra quello un po' più verosimile, è questo qua. Il secondo dice che in realtà lui non può avere proprio niente di quello che ha Britney, però si può ottenere tutte le cose che Britney gli ha comprato durante gli anni di finanziamento, o comunque durante l'anno del matrimonio, e si può ottenere, per esempio, le sue macchine. Ok? Ora, perché vi ho raccontato di questo accordo prematrimoniale? Perché l'accordo sarà oggetto di critiche, e sarà anche oggetto di guerre e di battaglie per quanto riguarda questo matrimonio che non sa più da fare. Vi ricordate all'epoca, però, quando loro due hanno annunciato il loro finanziamento? Ovviamente i fan hanno iniziato a scrivere sotto commenti di Instagram, quando ancora si poteva commentare i suoi post, o su Twitter avevano detto, la taggavano e scrivevano, Britney, guarda, fai un accordo prematrimoniale perché non ti fa ruba sordi nemmeno questa volta. E lui, Sam Asgari, ci scherzò su, mettendo questa Instagram Stories, in cui diceva, avete ragione, dobbiamo fare questo accordo prematrimoniale, sia Mike e Britney mi dovesse prendere tutte le scarpe, tutta la collezione di scarpe che ho, insomma, una cosa del genere, e devo proteggere la mia jeep. Insomma, disse questa roba come per di, si farà, ma non serve a nulla perché noi ci amiamo. Sì, vero, ti amo proprio. E arriviamo a noi. Sam Asgari, per questo divorzio, ha assunto come avvocato Neil Hirsch. Ora, scusate per le pronunce, però, comunque, Neil Hirsch. E lo ha assunto per contestare, appunto, questo accordo prematrimoniale perché vorrebbe più soldi. In più, lui si dice che sia molto certo del ricevere quello che richiederà perché avrebbe, in qualche modo, delle prove, delle cose segrete su Britney e la starebbe, in poche parole, minacciando di divulgare tutti i suoi segreti, tutte queste cose che Britney non vuole, che diventino di dominio pubblico, per avere più soldi dal divorzio. In più, lui vorrebbe che Britney Spears pagasse le sue spese legali, quelle di Sam, per il divorzio, e vorrebbe anche un assegno di mantenimento mensile. Vi ricorda niente questa cosa? È la stessa cosa che accadde con Kevin Federline, solo che con Kevin riuscì a, cioè, Kevin riuscì ad ottenere questo assegno di mantenimento perché a lui andarono poi anche i figli con l'affidamento e quindi Britney riuscì, in qualche modo, a dire, vabbè, ti do un assegno di 20.000 dollari al mese, ma per il mantenimento dei figli. Che fine ha fatto Kevin? Ve lo dirò alla fine di questo video, non vi preoccupate. Il fatto è che Sam e Britney fortunatamente non hanno avuto figli, anche se vi ricordate che lei era rimasta incinta prima del matrimonio, ma che sfortunatamente ebbe un aborto spontaneo. Ora a me mi viene in mente, perché sono un po' non cinico, ma complottista, che questo faceva parte di tutto il piano di Sam, e cioè sposarla, metterla incinta e poi lasciarla, per avere più soldi dal mantenimento e per toglierle un'altra volta un altro figlio. Meno male, nella tragedia, io penso che al giorno d'oggi si sia un po' salvata. Non lo so, fatemi sapere se anche voi la pensate così, ma non è finita qua, perché se da una parte Sam Asgari ha assunto appunto Neil e contesta il prematrimoniale, dall'altra Britney Spears ha richiesto come avvocato Laura Busser, che è la stessa avvocato, si dice avvocato anche se è femmina? Ah, allora ho detto bene, che bello. è la stessa avvocato che lei aveva durante il divorzio del primo marito. È diventata così famosa questa Laura Busser che è diventata dopo Britney la divorzista delle star, perché dopo di lei ha difeso Johnny Depp, Kim Kardashian, Kevin Costner e Joe Manganiello, ok? Quindi lei l'ha richiamato perché ha detto aspetta, nel 2008 mi sei stata molto utile e mi hai fatto sganciare solo tra virgolette 20.000 dollari a Kevin Federline. Ritorna perché bisogna fallo nero. Ma, ragazzi e ragazzi, voi direte ma come sappiamo tutte queste cose? Noi sappiamo tutte queste cose perché TMZ ovviamente che ne sa sempre una più del diavolo è stato il primo a pubblicare la notizia e l'ha pubblicata qualche ora prima che Sam Asgari andasse a richiedere le carte del divorzio. La fonte di questa notizia per TMZ proveniva presumibilmente da qualcuno molto vicino a Sam e qualcuno pensa che addirittura sia stato lo stesso Sam a chiamare i giornalisti di TMZ e dire tutto anche perché se no c'è qualcosa che non torna come fanno loro a sapere due ore prima che Sam sta chiedendo il divorzio se lui ancora non l'ha chiesto? C'è qualcosa che non va c'è qualcuno che sta spifferando le cose e molti stanno pensando che sia lo stesso Sam La causa rivelata a TMZ non è quella che abbiamo nelle carte che ho anche mostrato ma la causa della richiesta di divorzio di Sam per il matrimonio di Britney sarebbe un tradimento tradimento che la stessa Britney avrebbe fatto ai danni di Sam ok? Ora capite io vi parlo un attimo sì perché dovete capire che questa situazione non sta in piedi come ha fatto e io vi dico il mio dubbio ed è un dubbio che ha fatto il giro del mondo e tutti hanno il mio stesso dubbio come avrebbe fatto Britney Spears a tradire Sam Asgari se in questi anni ha sviluppato l'ansia sociale e quindi non esce mai di casa da sola se può non esce di casa e si rifugia dentro le mura di casa sua appunto perché ha paura ad uscire di casa quando è fuori è sempre con Sam dove l'ha trovato il tempo di addirittura conosce qualcuno e tradire il marito se è sempre con lui o se è sempre in casa abbiamo una risposta perché ovviamente queste cose che vi ho detto hanno fatto il giro del mondo perché in tantissimi se lo sono domandati in tantissimi hanno detto c'è qualcosa che non torna è impossibile questa cosa prontamente appena tutti questi dubbi sono diventati virali TMZ pubblica un nuovo articolo dicendo che Britney non avrebbe tradito Sam al di fuori ma lo avrebbe tradito con un membro dello staff di Britney interno e quindi quello domestico capite? il perché io ancora una volta ci vedo un complotto ci vedo qualcosa di studiato a tavolino perché è troppo facile te dici che mi ha tradito poi tutti dicono è impossibile perché non esce mai di casa e allora prontamente mandi una soffiata TMZ che magari avrà l'esclusiva su questa cosa con Sam o con chi lavora con Sam e prontamente scrivono no ma l'ha tradito con un membro dello staff domestico si ci crediamo tutti ovviamente ma come prova di questo tradimento si dice che lo stesso Sam avrebbe visionato e avrebbe in mano dei video in cui appunto questo tradimento era in atto e in più avrebbe trovato addirittura Britney con questo membro dello staff in delle posizioni un po' compromettenti ora io non so in che posizioni compromettenti li abbia trovati probabilmente questo membro dello staff la stava aiutando a montare il palo di lap dance che ha messo ora ultimamente però mi sembra un po' stano però comunque ci può sempre stare ma ci può sempre stare se non che sempre queste fonti che sarebbero vicine a Sam rivelano a TMZ che ve lo leggo Britney sia in uno stato fragile che la rende un rischio per la propria incolumità allora io qui ci vedo una voglia un un piano per cercare di fare una seconda conservatorship con questa volta però a capo Sam perché se te è vero che vedi che Britney comunque non ci sta tanto con la testa o comunque è in uno stato fragile e hai paura per lei di certo non vai a chiedere il divorzio di certo non vai a chiamare i giornalisti di TMZ ma chiamerai l'ambulanza o chiamerai la polizia per aiutarla in qualche modo quindi c'è qualcosa che non va ma ricordatevi queste parole queste affermazioni perché sappiamo come sta Britney ma ve lo dirò dopo allora sempre per quanto riguarda TMZ perché io vi dico che secondo me ha un accordo TMZ con Sam perché è sempre lui il primo a dire le cose che accadono a Britney e è impossibile perché a qualche parte devono arrivare vi ricordate che a maggio di quest'anno TMZ fece uscire un documentario su Britney Spears sulla sua storia sulla conservatorship bene questo documentario fu oggetto di supercritiche e addirittura Sam andò contro questo docu ma ne parliamo non vi preoccupate fatto sta che molti fan americani che hanno visto questo documentario hanno notato che la narrativa del tutto portava più dalla parte di Sam ok per screditare Britney e per magari santificare il marito e una cosa che ha fatto molto incavolare i fan si affermava in questo documentario che Britney Spears fosse violenta con Sam e addirittura fissata con i coltelli e robe del genere ecco quando uscì il documentario Sam Asgari difese a spada tratta Britney Spears da queste cose con delle instagram stories in cui anche tutto incavolato disse guarda non dovete dar credito a queste robe a questi documentari perché sono tutte cose fake sono tutte cose clickbait fatte per fare soldi a discapito di mia moglie quindi la dovete anche smettere perché dopo tutto quello che ha passato lei basta con queste fregnacce era anche molto incavolato ok ma ragazzi al giorno d'oggi agosto siamo ad agosto raga quindi maggio luglio agosto sono passati solo i due mesi sembrerebbe che Sam Asgari abbia cambiato idea perché ora al giorno d'oggi TMZ ririporta tutte queste notizie per quanto riguarda la psiche di Britney e per quanto riguarda Britney è violenta con Sam perché scrive in una nuova in un nuovo articolo che lo avrebbe colpito durante il sonno facendogli anche addirittura un occhio nero e continua TMZ a dire che lei è ossessionata dai coltelli e sembrerebbe che la fonte che gli ha passato queste notizie ora dell'occhio nero della violenza e di tutto quanto fosse Sam stesso ok ma moltissimi hanno già contestato questa cosa dell'occhio nero perché quando uscì tipo la foto di questo occhio nero Sam Asgari stava uscendo dalla sua panestra e quindi molti dicono che in realtà a parte che non era un occhio nero nero ma era tipo un segno era dato da un allenamento finito male e quindi Britney non c'entrava nulla inoltre nel mentre la posizione di Sam Asgari si sta diciamo velocemente compromettendo anche perché sono uscite fuori altre notizie oltre che TMZ tutti gli altri quotidiani tutti gli altri giornali o siti scandalistici hanno rivelato che Sam stia minacciando Britney Spears come vi ho già detto di rivelare questi segreti imbarazzanti pur di avere dei soldi in più raga questa è estorsione l'estorsione è un po' illegale è un reato se tutto questo fosse vero altro che soldi in più ma te ne va in carcere questa volta anche perché vi ricordate ve l'ho detto qualche minuto fa se il contratto prematrimoniale è praticamente di ferro e quasi nessun giudice secondo i media americani andrebbero a cambiare questo accordo per dare più soldi a Sam lui praticamente sta facendo tutta sta roba mentale privatamente perché così magari spera che Britney non volendo più sapere di sta storia volendosi levare volendoselo levare di torno il prima possibile senza sta a soffrire dell'altro sotto le pressioni che lui fa guarda io rivelo questo io rivelo quest'altro io rivelo questo lui spera che Britney dica guarda vabbè quanti soldi voi ti stacco l'assegno basta però basta è un'istorsione questa raghi non è molto carino fatto sta ragazzi e ragazzi se nel mondo tutti siamo contro sei masgari ma da sempre lui poche ore dopo lo scandalo diciamo così pubblica questa instagram stories in cui in poche parole conferma la fine dell'amore la fine del matrimonio con Britney perché fino a questo momento nessuno dei due aveva detto si è vero quindi rompe il silenzio e dice vabbè dopo sei anni di amore io e la mia moglie abbiamo deciso insomma di lasciarci manterremo l'amore e il rispetto che abbiamo l'uno per l'altro e le auguro sempre il meglio e poi ragazzi alla fine chiede ai media un po' di privacy cioè ma stai scherzando di essere gentili e premurosi stai scherzando hai scatenato tutta te cioè te hai scatenato tutta sta merda e ora fai anche l'agnellino tipo sto soffrendo per favore chiediamo un po' di privacy non date contro né a me né a Britney perché ci vogliamo comunque bene oh falsone ma levati ma sei di fuori non ti crede nessuno bellino dall'altra parte se Britney in questo momento non ha detto ancora niente si è fatta paparazzare in macchina mentre guidava la sua Mercedes e i paparazzi hanno notato che non ha più la fede quindi diciamo che è stata una conferma no che il loro amore fosse finito se non ha detto una parola riguardante la fine della storia con Sam ha detto molto riguardante la sua vita anche perché il suo ultimo post pubblicato su Instagram lei si vede sopra in sella un cavallo e sta pensando di comprarne uno e in realtà basta silenzio sto lavorando e in realtà è uscita anche una notizia che lei starebbe lavorando in super segreto con la Sony per fare uscire un nuovo album di canzoni e starebbe chiamando scrittori produttori e chi più ne ha più ne metta quelli che hanno lavorato con lei durante la sua blackout era e quindi potrebbe lavorare in un nuovo album blackout 2.0 che lo sappiamo tutti è il suo album migliore riuscito meglio e potrebbe essere un album revenge riguardante questa cosa che sta succedendo lo speriamo anche perché è uscita qualche giorno fa la notizia che durante l'uscita del suo libro che è il 24 ottobre lei starebbe pensando di rilasciare anche una mega intervista con chi? con Oprah e che ve lo aveva detto un anno fa che lei doveva fare questa mega intervista? assolutissimamente io adoro che bello alla fine io mi invento le cose e poi succedano sono cose bellissime ma non è finita qua perché se le fonti vicino a Sam dicono come vi ho già detto che Britney sarebbe passando un periodo un po' così che hanno paura per la vita sua e della sua come si dice roba mentale le fonti invece vicino a Britney dicono che Britney è di super buon umore sta se la sta passando bene ma sta lavorando e decidendo con il suo team di legali cosa fare con queste minacce di Sam e come fare per far finire tutto il prima possibile ora c'è una cosa da dire un rappresentante di Sam ha twittato questa cosa qua in cui nega che Sam Asgari e il suo staff stiano contestando l'accordo prematrimoniale che dice che non è vero niente che è tutta una fake news e tutte queste robe qua ma in realtà l'aggiornamento dell'ultima ora praticamente l'ho letto 5 minuti prima di iniziare registra sto video sempre da TMZ c'è questo gossip c'è questa news in cui si dice e si riafferma che Sam Asgari stia sfidando privatamente Britney Spears senza gli avvocati senza robe così per farle cambiare l'accordo prematrimoniale per avere più soldi per avere il mantenimento minacciandola di fare uscire cose che lui sa perfettamente che Britney Spears non vuole assolutissimamente che il mondo sappia in realtà sappiamo che in questo accordo prematrimoniale una delle clausole che c'è scritta è quella che anche nel caso in cui loro si dovessero lasciare lui non può parlare del loro matrimonio non può dire segreti non può parlare nulla insomma ha un accordo di riservatezza e quindi tutti noi pensiamo e allora come può sputtane la nostra cara Britney se ha questo accordo di riservatezza è inutile che tu prendi un milione di dollari e poi li devi ridare a tutti come multa lui lo bypasserebbe facendo casualmente uscire queste notizie dal suo avvocato o da chi per lui ok come una specie di oh ho perso il materiale su cui stavo lavorando è andato nelle mani dei giornalisti non ci possiamo fare nulla non è che abbiamo detto qualcosa a noi ce lo hanno sgraffignato capite la mente diabolica di questo s t r o n z o ora parliamo seriamente queste sono le notizie riassunte tutto quello che io ho scoperto su il divorzio possiamo dire dell'anno a questo punto sicuramente in questo momento saranno uscite nuove cose ci faremo una parte due non vi preoccupate però vi voglio dire un attimo la mia io che Sam fosse un s t r o n z o e anche molto altro da quanto è che ve lo dico che c'era qualcosa che non andava a lui lo sapevo però che arrivasse a questo punto fino a questo punto che era tutto finto secondo me arrivati in questa situazione boh ce ne vuole di coraggio anche perché poerina lei ne sta passando e ne ha passate una peggio dell'altra tutti quelli che sta vicino a lei la vogliono sfruttare tutti quelli che sta vicino a lei la vogliono morta non si può fidare di nessuno anche perché vi ricordo che lei adesso è rimasta completamente sola perché il padre un ne parliamo la sorella un ne parliamo la mamma un ne parliamo i figli non vogliono più parlare con lei si dice che non parlano e non la vedano non parlano con lei non la vedano da un anno e addirittura abbiamo scoperto che si sono trasferiti con Kevin alle Hawaii e sapete il perché perché ne abbiamo parlato ultimamente perché alle Hawaii gli Stati Uniti sono la confederazione di 50 stati quanti sono ogni stato ha le proprie leggi per quanto riguarda il mantenimento dove stavano prima ora che il figlio il figlio maggiore farà 18 anni il mantenimento Britney non doveva più darglielo ok invece alle Hawaii il mantenimento glielo deve dare fino a quando non avranno 21 anni tutti e due quindi devono passare altri 3 anni tipo e quindi si dice che loro si siano trasferiti apposta lì alle Hawaii per rubare altri soldi a Britney quindi i figli non vuol sapere nulla di lei l'altra famiglia così il marito che praticamente la sta uccidendo più di tutti ha passato 14 anni rinchiusa sfruttata e tutto quanto io ora capisco se dovesse fare qualche storia qualche video in cui si vede un po' così la capisco ma pensate voi a vivere tutto questo sareste rimasti con il cervello intatto non penso proprio ora ci sono anche però dei gossip che dicono che tutti i post quelli dove balla e dove cosa che sono adesso contestati dallo stesso Sam Masgadi perché io vi ricordo se noi torniamo al punto 1 dove era lui aveva richiesto il divorcio per differenze inconciliabili e molti dicono che queste differenze siano dovute anche ai video un po' imbarazzanti che pubblica Britney ma in moltissimi sono convinti che quei video siano stati fatti sotto volere di Sam o o comunque con Sam al di là della telecamera ok quindi lui era d'accordo con queste cose quindi a questo punto se queste voci fossero vere insieme a tutto il resto Sam ha una mente diabolica perché si è programmato tutto per filo e per segno tutti questi anni per arrivare poi al divorzio e per sgraffignargli i sordi o magari per far richiedere una nuova conservatorship così da metterla definitivamente KO ed avere il controllo completo sul suo patrimonio che al momento vi ricordo è di soli tra virgolette 60 milioni perché il padre durante i 14 anni di conservatorship le avrebbe sgraffignato un miliardo di dollari quindi tutto ora ragazzi io ovviamente mi auguro che lei una volta fatto fuori anche lui basta basta non ti perde con l'altro basta pensa a lavorare pensa alla tua salute pensa a guarire fa tutto fai un Q grosso così ora nel libro non ci sarà scritto però nel libro avrai la tua revenge per quanto riguarda il padre e tutto quanto fai interviste album contro Sam e così devi fare così tanti altri soldi così tanti miliardi che loro devono impallidi e soprattutto ti do un consiglio a mia cara brit perché so che guardi i miei video denunciali e falli mori in carcere anyway ragazzi ragazzi questo è tutto per il momento fatemi sapere voi se sapete altro qua sotto tramite commento da che parte state se questa situation è sempre peggio raga mettete mi piace a questo video se vi ha fatto capire qualcosa anche se non ci avete capito nulla perché sono al corrente che è un po' tutto ingarbugliato iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto noi ci vediamo domani con un nuovissimo video ciao